Il futuro dell'aeroporto di Comiso è strettamente legato a quello di Birgi e dunque non sembra essere dei migliori. L'aeroporto di Trapani registra l'ennesimo flop con la gara per l'assegnazione dei 22 lotti per incentivare le compagnie aeree a volare dallo scalo trapanese, che è andata deserta, allungando anche i tempi per Comiso visto che i due bandi procedono in parallelo. Così il nuovo avviso comisano, che avrebbe dovuto essere pubblicato per la fine dello scorso maggio, ha richiesto un'ulteriore dilazione dei tempi e a maggio si sarebbe dovuto procedere all'approvazione del bilancio di Soaco. I due soci però, che ricordiamo sono il comune di Comiso e InterSac, oggi interamente in mano a Sac, hanno chiesto più tempo per approfondimenti sull'esercizio finanziario di cui si discuterà nelle prossime settimane. L'agenzia che sta stilando il nuovo bando, spiega il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ci ha inviato delle ulteriori note alla luce di quanto si è verificato a Birgi. Si vuole evitare che anche la gara su Comiso possa avere un risultato analogo a quello dello scalo trapanese, dove nessun vettore ha presentato offerte. Anche perché non si tratterebbe neppure della prima volta per il Pio La Torre, che con i bandi non è stato certo fortunato. Le prime tre gare sono infatti andate completamente deserte. Il primo cittadino comisano fa sapere che dovrebbe essere comunque questione di giorni, dopodiché la tratta sarà attivata. Avrà la durata di 31 mesi, così almeno quanto previsto dall'avviso. La cifra a base d'asta è di poco inferiore agli 8 milioni di euro tra fondi ex Insicem dalla Camera di Commercio del Comune di Ragusa e della Regione. Palermo ha messo il grosso delle risorse, grazie alla Convenzione per le azioni di co-marketing sottoscritte alcuni mesi fa dai comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Vittoria, Santa Croce Camerina, Cate, Monte Rossoalmo, Giarratana, Chiara Montegulfi e di Palazzolo a Creide. E nel frattempo i passeggeri a Comiso continuano a diminuire. Aprile è stato un mese nero per il Pio La Torre, con un calo del 35,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un mese in linea purtroppo con il periodo infelice che sta vivendo lo scalo.